prova prova allora prova 1 2 prova 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 aspetta prova prova megafono aspetta un attimo prova megafono prova citofono 1 2 prova prova sa sa saverio sa saveria si chiama no si fa così prova prova ci sei lello io sempre ci sono sei pronto collega sei pronto si diventa anche regia pure tu e mi devi dare il mio pupazzo che voglio da con il pupazzo ti sei reso conto a che livello stiamo a che livello sto da solo io la regia mi ha lasciato da solo è perché muovi le chiedi tu l'orecchio la regia mi raccomando ti porta la coscienza a far stare da solo antonio stai tentando stai tentando di esautorare a tino di cacciare a tino costanti mi potete il pupazzo qual è il problema dammi il pupazzo da lavori tu con me al posto suo se qual è il problema sei sicuro sei sicurissimo cento per cento per cento collega facciamo collega con la regia che sono io sono la regia costanti ciao lo stai sinurando come era il miglior amico tuo diciamo che vuoi lui direttamente a me a dirmelo la regia a me lo vuoi non tu che ti metti bene collega la regia lo vuole insieme a me vuole vedere così come come l'altro beh lei è stato già filmando ecco beh ma mi devo dire ma tu ma ti sentiresti in colpa se tino perdesse il suo lavoro perché se no no tu non deve stare con l'altro pupazzo addirittura dobbiamo fare con due telecamere due due pupazzi e chi siamo mica è stato girato il film si è quello il problema con due pupazzi però l'altro pupazzo dopo dire attenta al cazzo così ecco il pupazzo mio vabbè da un po che non ci vediamo come sta andando e vabbè mi sono andata con fevere abbastanza perché mi caccano io faccio quello che voglio mi sto qua un po con te dialogo con te con gli altri comunque un saluto da londra che do io a londra londra si cioè l'ello international come si chiama chi sta a londra ci sei iscritto tu aspetta aspetta davvero ce l'ho quanti pizzini ha non capisco ne ho ne hai tanto troppi pizzini e allora come si chiama fammi vedere allora l'altra città una si chiama alfi e vanessia di londra altissimi sei al verde la è sotto tutti da un carissimo amico michele sorrento anche lui è anche amico me pure e di dove è questa questa è tutto da che c'è di brucia e che lavori di che cosa devi fare a londra oppure con il pupazzo pure pure con il pupazzo e lavori sei all'oltre con il pupazzo nuovo ma vattino vabbè vattino è chiaro per forza devo vedere un po di sciarmi come dico io ma vattino vabbè come vattino vabbè proprio mi sai quale potrei spiegare io perché torino costantino tu stai solo e poi come devi fare senza dimersendere costantino come devi fare senza che devo registrare tutta una sola il pupazzo come devi fare senza di costantino la regia me lo spieghi intanto non sono io che faccia a me di costantino e costantino che non è venuto mi ha lasciato così e non è giusto quello che dico io ma sei emozionato che tra un po fa i 50 anni ma qual è il problema che li dobbiamo festeggiare qua no qua non si festeggia niente dobbiamo festeggiarlo qua abbiamo già avuto l'autorizzazione no niente io non lo festeggio non ci sto come no non ci stai dove sta qua stai no non ci sto io qua dobbiamo festeggiare perché lo dobbiamo festeggiare no niente perché ho già fatto già con la c***a e ho detto va bene qua no là si vedi che secondo me lo dobbiamo festeggiare qua no secondo me no ho già fatto la c***a e me la vedo io tutta qua ho già fatto preparare la stanza con gli addobbi no niente non si è preparato niente non è qua niente attorezzo si perché là c'è il mio cuore ma che regalo vuoi per il compleanno vorresti vabbè il pupazzo il pupazzo che altro regalo vorresti no cosa la mia è la malvole un regalo che si può prendere quale sarebbe anche a lei voglio come regalo vuoi malena come regalo? eh sì ma vabbina perché? vuoi malena come regalo? sì così vediamo andiamo così tutte e tre tutte e tre così vedi così così tutte e tre regia ah collega e allora? e allora non so se si può avere quel tipo di regalo un regalo un po' più facile quale può essere? ma vabbè un 5 mila euro del contatto ma non vede eh? 5 mila euro ti accontenti di poco? è chiaro la trattativa per il regalo andiamo dall'altra parte che è meglio collega ascoltami un po' sì vogliamo fare invece un bel saluto a Giovanni che in questo momento non se la passa bene? eh sì vabbè un carissimo Giovanni che vuole che se la passa bene con l'operazione che è riuscita bene e se va bene lui però vuole che non vuole essere un contraminto come tu vuole essere un contraminto cioè? cioè? eh? ha le patatine che va a me e cos'è sei geloso? e non so mai geloso e vabbè lui non giocava tu hai il diabete io voglio rifrascarmi anche il canarillo tu sei diabetico no non puoi mangiare quelle cose che ti ho detto a te? e poi si vedrà un po' e vabbè qualche cosa vediamo intanto vediamo gli esami come vanno Giovanni lo può fare ovviamente mica gli abbiamo portato tutto ciò che ha chiesto e ma che con la metà? poca roba gli abbiamo portato poca roba gli abbiamo portato e perché? ma scusami e se vabbè perché gli hai fatto una regia a me? giustavamo di pesca avevamo di pupazzo dobbiamo festeggiare qua ai 50 anni no 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 non lo festeggio fine nona fine nona fine nona fine nona fine nona fine nona nona negativa a morire ho già parlato non c'è niente da fare ho già parlato non è sì non è sì non è l'ho niente è l'ho niente non è proprio non è una schiacca dai vai non è proprio ma perché fai con la faccia così? perché no perché no ma perché no perché no perché no a Toretto sì a qua no perché perché no perché a Toretto è il mio godo perché perché c'è la mia bella ecco perciò buoni signori saluti da lei a tutto l'amore suo lei aveva tutto l'amore mio ecco perciò sì 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 si collega sì allora collega mattino già ho parlato con lei come così via niente togli tutto e non fai 6 di 50 anni no cioè sei disposto a questo piuttosto che sì ti ho festeggiato a Toretto non qua già le ho detto ho parlato già con lei è capito bravo che via adesso chiamano chiamano a Toretto non devi chiamare sempre tu quando vuoi sapere qualcosa dillo a me non chiamano ma tu piacciono direttamente con la cosa direttamente direttamente regia ma secondo te io posso fare le cose contrarre a quel che dici tu a poco quindi dove lo festeggiamo qua no festeggiamo ma la Toretto qua no a Toretto qua ho già ordinato la torta tutto qua se ce la puoi mangiare la torta se ho il cioccolato no a Toretto come la vuoi la torta al tiramisù resiste la torta al tiramisù no a Toretto tu vuoi il tiramisù Anna Maria la mia bambolina e mica la farà a lei la torta quello è il problema ma tu la ciambella te la mangi la ciambella sì al cioccolato buono ma la farà la mia bambolina chi è la tua bambolina Anna Maria la bella non ci allarghiamo già no mi devo allargare ti piaceva quella che ha fatto la nostra e sì ma quello è il problema la dobbiamo far rifare e sì vabbè faremo rifare la ciambella mi devo parlare di persona con la bambolina ma posso invitare la bambolina mi sembra tu posso invitare la bambolina al compiano tuo sempre subito può venire lei se come vabbè allora Anna Maria sei invitata al compiano di Lello vabbè la voglio già magari stava mi vuole dare un bacetto come dico io alle guance che tu sei geloso non so ti brucia ti sta allargando un po' no non mi sto allargando sei convinto eh sì e lo stampato come è che vuole non so lo stampato come è che vuole da sì forse lo stampato a chi è tra me e Tino tra me e la regina a me quindi le vedi no è chiaro che vuole dare un'azienda a chi faccia ma che collega che ho collegata anche alla regia eccomi ma e ma sei da e ma questo perché non è che la regia il pupazzo perché non ci sta perché non ci sta ha fatto insubordinazione non è voluto venire ha detto di Lello non mi interessa più niente che bugia è vero sei tu che lo fai incazzare io e se a me lo vuole che lo chiamo io e chiamalo in diretta chiamalo vediamo quale è il problema di perché non sei venuto non ti risponde nemmeno non ti vuole manco rispondere non ti vuole nemmeno vedere chi l'ha detto a te non ti vuole vedere che ma il Costantino è come la regia non ti vuole vedere è bugia non ti vuole vedere scegli me allora che faccio io all'intervista con il pupazzo devo scegliere o te o te perché devo scegliere e scegli me che è meglio ma perché è perché io sono un po' più bravo di lui perché lui già si sceglie di all'invenzione ma perché lo so non sarei meglio il pupazzo è un piacere aiutarti è un piacere aiutarti ha detto il telefono hai visto e quindi tu stai scaricando Tino senza pietà chi l'ha detto ha detto devo scegliere devo scegliere sì ma ma con due pupazzi però due pupazze è meglio hai scaricato no non sono scaricato perché qualche cosa però tanto poi lo so io lo scrivo pure ma salutelo ma che Costantino tanti saluti per ora solo per ora dai fai il saluto beh Costantino fatti vedere facciamo noi come è solo per ora è quasi tutto saluto Costantino no prima devi dire tutto per ora è solo per ora saluto a Costantino solo per ora è quasi tutto solo per ora no per ora è solo per ora per ora quasi tutto no tu lo devi dire eh vabbè non mi ha dai per ora solo per ora è quasi tutto saluto a Costantino per ora è solo per ora è solo per ora è quasi tutto saluto a Costantino saluto a Costantino saluto a Costantino allora saluto a Torito 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 a Tor Così. Non riesci a... No, adesso non mi posso fare da qua, a persino. Eh, per favore, e tu non vai più alle forniture di qua? No, no, non vado più alle forniture. E quando vado non bevo io? Ah, non vai, non bevo. No, chiuso. No, posso dare a casa. Eh, per ora, è solo per ora. Tutto? Vai, dillo. Salutiamo a Costantino. Per ora? Per ora. È solo per ora? È solo per ora? È quasi tutto. È quasi tutto. Tutto insieme. Eh, no, mi ha anche, vabbè, sono salutati già. Tre, quattro volte più di più. Ah, va. Ciao, ciao, cosa andai? Ciao, un bacio di Costantino. E poi, capisci cosa andai, basta. Prima gli vuoi togliere il posto e forlo. Eh, ma no, 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 perché la massa è che tu papà. No, 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 non scarico. Adesso, 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 perché io lo so manovrare meglio di lui, il pupazzo. E vedi che l'hai detto che sei meglio almeno male di lui, mo le idee, mo le idee.